ok a bello allora se raccogliere la cacca mi sembra una cosa di civiltà come dicono assolutamente non è civile levare una cacca dall'asfalto metterla in una plastica e portarla a mala grotta chiusa così manco fermenta lì e va inquinal terreno e a mala grotta senti che puzza che svampa che arriva nella discarica però è pure giusto raccogliere la cacca sui marciapiedi e addirittura nel parco se c'è paura che qualcuno le pista e come poi fa? nico il furbetto l'ha fatta nuovo vicino a quelle foglie grandi e ecco la raccolta biologica della cacca perché bisogna essere civili ma prima ancora biologici dove la butto adesso nel secchio non c'è senso lì c'è un orto in quadra l'orto lì c'è il terreno quadra l'orto che bello del signore laggiù allora io questa la butto nel terreno perché cacca vegana fertilizza non fa male impara dalla natura